Ciao a tutti, bentornati. Oggi volevo proporvi un gioco divertente con la luce da fare con alcuni materiali che potete tranquillamente reperire anche in casa. Vi serve una scatola trasparente e una fonte di luce. Io in questo momento avevo a disposizione le lucine di Natale, ma potete utilizzare tranquillamente anche la torcia del cellulare. Basta accendere, inserire nello scatola e il gioco è fatto. Vi occorrono alcuni materiali però che anche questi sono facilmente reperibili. Io per esempio ho trovato della farina gialla e delle plastiche. Quindi ho tagliato delle bottiglie, ho preso dei tappi ammorbidenti, tappi del latte, tappi vari che ho trovato in giro. Oppure, semplicemente, pennarelli e un foglio di carta. Se non avete a disposizione dei fogli di carta potete usare tranquillamente anche la carta da forno. Basta spegnere la luce e il gioco è fatto. Una volta spenta la luce potete lasciare ai bambini la possibilità di sperimentare la loro fantasia. Ad esempio, con le plastiche potete lasciar loro la possibilità di creare installazioni. Quindi, in base ai pezzettini che riuscite a ricavare o alle forme che riuscite a dare a questi oggetti verranno fuori delle installazioni, dei paesaggi, degli scenari strumenti molto particolari. Oppure, potete anche posizionare sopra alla vostra lavagna un foglio di carta lasciandovi dei pennarelli neri in modo da poter lasciar loro la possibilità di fare delle grafiche anche attraverso lo stimolo luminoso. E la stessa cosa vale per la farina gialla. Quindi, la posizionate sul vostro piano e lasciate ai bambini la possibilità di manipolare. Spero che questo gioco vi piaccia, che piaccia ai vostri bambini e ci vediamo presto. Ciao! 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 Ciao!